Ha fatto fatica a nascondere l'emozione, si è detto orgoglioso e onorato. Primo giorno da primario del reparto di ostetricia e ginecologia di Termoli per Vincenzo Biondelli, molisano Termoli Sedoc. Un grazie accorato a chi ha creduto in lui, al presidente della regione Roberti, a tutta la dirigenza e lo staff ASREM. Una nuova sfida ma con un progetto di valore. Un progetto, ha detto Biondelli, che pone al centro i bisogni del territorio, promuovendo una medicina vicina alle persone e ai professionisti. Per il neoprimario è fondamentale un reparto che sia un punto di riferimento per la salute delle donne, un luogo sicuro, accogliente e all'avanguardia. So di entrare a far parte, ha detto Biondelli, di un team affiatato e di grande competenza che ha già fatto un lavoro straordinario. Sono emozionato perché dopo 25 anni torno nella mia terra, ma sono veramente soddisfatto perché questa volta ho trovato uno spirito di innovazione, cioè c'è un intero gruppo che vuole migliorare, che vuole crescere e questo mi ha fatto veramente piacere. Una nuova sfida perché la sanità è fatta di progetti e questa volta ho trovato i progetti, ho trovato veramente chi ha voglia di pianificare per il medio-lungo periodo, perché questa è la strada che porta a uno standard altissimo e ti consente di avere la qualità sempre alta nel tempo. Biondelli punta una medicina di genere a proporre un approccio del tutto innovativo. Sono abituato per mia formazione a dare sempre informazioni su quello che attivo, non su quello che attiverò. E quindi vi dico che comunque cercheremo di attivare una serie di nuovi servizi sia in ostetricia che in ginecologia, puntando sull'innovazione della sala parto, della sala travaglio. E quindi questo nel tempo vi darò sempre contezza di quello che facciamo. Però intanto vi dico che da subito, da novembre, inizieremo a creare una scuola di chirurgia, una palestra chirurgica sulla chirurgia laparoscopica avanzata, guardando alla robotica, che spero che in futuro sia anche questo il punto di arrivo, con la collaborazione di un mio carissimo e fraterno amico, che è il primario del Sant'Anna di Brescia, che è uno dei più importanti laparoscopisti italiani. E poi un messaggio a tutte le future mamme. Lavoreremo per assicurare degli standard altissimi e moderni, quindi inizieremo a parlare di umanizzazione del parto, di tutta una serie di servizi per la mamma, che va dalla gravidanza al punto nascita, quindi alla nascita e al puerpelio, senza però demonizzare quello che è stato fatto, perché è quello che chi finora ha diretto il reparto, il dottor Flocco, con tutta la sua equipa, hanno fatto un lavoro straordinario.